Via Allende c'era una volta il degrado. Qui si consumava un inferno quotidiano tra alcol, droga, violenza, sporcizia. Questo muretto, panchina per immigrati nulla facenti, è stato abbattuto dagli appelli disperati dei residenti e dai servizi di Rete Veneta intervenuta al fianco dei cittadini in questa battaglia sacrosanta per eliminare uno dei fulcri del degrado a Vicenza. Così il 2019 è nato sotto una buona stella. Il 2 gennaio sono arrivati i martelli pneumatici, è iniziato l'abbattimento del muretto del degrado e oggi i cittadini hanno chiamato di nuovo Rete Veneta, questa volta per festeggiare con noi la fine dei lavori. Non era solo un problema di spaccio, era un problema di bivacco, di bevute, di atti osceni in luogo pubblico e di disturbo alla quiete pubblica, per cui siamo molto soddisfatti. Sì, sicuramente non sono più qui dalle 9 di mattina quando cominciavano a suonare musica e a bere. E soprattutto non sono davanti alle vostre finestre. Sì, non sono sotto le finestre di casa a disturbare, a bere, a urinare eccetera. Il muretto che c'era qui era un invito al bivacco, un bivacco anche di persone maleducate insomma che non avevamo rispetto dell'ambiente e neanche dei passanti e adesso la situazione è migliorata. La situazione è migliorata e noi di Rete Veneta siamo felici di aver contribuito a questo risultato. Ma prima di cantare vittoria dobbiamo aspettare il miglioramento dell'illuminazione e l'installazione delle telecamere di sorveglianza che il comune ha già promesso. Solo così verranno eliminati i residui angoli bui di Via Allende. Sono spostati di 10 metri in quanto manca ancora l'illuminazione sufficiente e mancano ancora le telecamere proprio per prevenire queste cose. Manca l'illuminazione e le telecamere che avevano promesso ma l'impianto l'hanno già fatto e quindi si tratta di metterla in funzione. Bene e noi di Rete Veneta continueremo a monitorare la situazione. Aspettiamo lampioni e telecamere. Colgo l'occasione per ringraziare tutta l'amministrazione, il sindaco Rucco, Cicero e il consigliere Nicolò Naclerio, le forze di polizia e soprattutto Rete Veneta che ci ha sempre dato voce e ci è sempre stata vicino. Sì noi di Rete Veneta siamo la voce dei cittadini anche in questo caso lo siamo stati. Oggi possiamo constatare ufficialmente che il muretto del degrado non c'è più quindi per quanto ci riguarda missione compiuta. Però siccome manca ancora qualche lampione, un po' di illuminazione, una telecamera di videosorveglianza proprio all'imbocco di Via Allende su Viale San Lazzaro dove si ritrova un gruppetto di spacciatori, beh per quanto ci riguarda la questione non finisce qui ma continua! Continua!